Negli ultimi anni, i dame e i cavalieri sono stati spesso protagonisti di situazioni a volte anche grottesche. In alcuni casi è dovuta intervenire la stessa Maria per fare chiarezza su alcune questioni nebulose. A farsi beccare dalla conduttrice sono stati Diego e Aneta, due protagonisti di Uomini e Donne, che si sono ritrovati al centro di una querelle un po' particolare. Talmente poca la chiarezza dei due che la De Filippi ha dovuto invitarli ad abbandonare lo studio. Rispondi sì, il problema non si pone e potete uscire dal programma, dice la De Filippi, invitando proprio Diego a prendere una decisione sulla sua relazione con Aneta. Ne ha seguito poi anche un battibecco tra lo stesso Diego e Maria, nella speranza di poter spiegare la sensazione nei confronti di Aneta. Grazie.